Stefano De Martino e Elena Damario Stefano De Martino ed Elena Damario, la foto accende il gossip, lanima libera e rara, quando la vedi la riconosci Stefano De Martino ed Elena Damario, la foto e la dedica fanno sognare i fan, lanima libera e rara, quando la vedi la riconosci Una foto e un dedica struggente, tanto è bastato ai fan di Stefano De Martino ed Elena Damario per tornare a sognare una storia d'amore tra i due ex danzatori di Amici I due ballerini, che da sempre non nascondono il feeling che li lega, sono così tornati ad accendere il gossip A postare la foto, seguita da un ardente messaggio, è stata la stessa da Mario che subito ha fatto incetta di like e commenti, liberando l'immaginazione di migliaia di follower Non è la prima volta che la ballerina pubblica uno scatto simile in compagnia di De Martino L'ultima volta è successo il 16 dicembre, quando Stefano ha annunciato l'addio temporaneo al talent show di Amici per volare come inviato all'isola dei famosi Anche allora Elena gli ha rivolto un pensiero e una foto assai toccanti Elena da Mario e Stefano De Martino, l'intesa che non si placca L'anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci E con queste parole che Elena ha voluto omaggiare la foto postata in cui è avvigliata a De Martino Un messaggio profondo e forte che subito ha raccolto oltre 130.000 like e centinaia di commenti Una mossa che ha fatto tornare a proliferare le voci di gossip che vorrebbero Stefano e la da Mario complici non solo nella danza ma anche in privato La realtà però pare essere un'altra, visto che l'ex marito di Belen Rodriguez sembra essere ancora impegnato nella love story con Gilda Ambriosio, secondo gli ultimi rumor e avvistamenti Tuttavia, la riservatezza sentimentale che il danzatore continua a coltivare non fa altro che dare ulteriori input all'immaginazione dei suoi fan L'amiciazia, l'amore e il gossip, il percorso parallelo dei due danzatori di Amici Elena e Stefano hanno seguito un cammino parallelo fin dai loro albori nella scuola di Amici Il loro legame si è fatto sempre più forte e si è via via rinsaldato negli anni successivi al talent show Stima, affetto e condivisione della passione per la danza hanno reso il loro rapporto amichevole e umano molto profondo Un feeling che, a intermittenza, continua a infiammare il gossip su una loro relazione segreta, comunque sempre smentita dai diretti interessati Stima, affetto e condivisione della passione per la scuola di Amici